Si intitola Strada Facendo, il ciclo di incontri organizzato dall'Ufficio di Pastorale dell'Educazione e della Scuola della Diocesi di Belluno-Feltre, incentrato sul cammino dei formatori, spesso lastricato di difficoltà e sfide, ma anche ricco di opportunità e soddisfazioni. Una serie di appuntamenti dai temi più svariati si passa dai Santi nell'arte bellunese al rapporto tra intelligenze artificiali e fede, dagli insegnamenti sulla Bibbia a percorsi di formazione all'impegno sociale e politico. Il nostro Ufficio ha voluto in questi anni allargare le proposte che inizialmente erano specifiche per gli insegnanti di religione cattolica, allargandole anche e valorizzando queste proposte anche per altri. Quest'anno abbiamo organizzato per ora 7-8 incontri, più il convegno che faremo a giugno, proprio su vari ambiti dell'educazione. La strada facendo si rifà al Vangelo di Matteo, indica proprio come tutti siamo in cammino nell'educazione insieme e il nostro educare è una vera e propria strada che ci vede partecipi, di cui condividiamo le orme. Il primo incontro ha avuto come perno centrale la famiglia e i suoi valori, le buone relazioni, la fiducia e la cura dell'altro sono stati i temi principali declinati alla luce dell'esortazione di Papa Francesco, Amoris Laetitia. Un'esortazione apostolica dove si delinea un pochino, come dice il titolo, la gioia dell'amore. La famiglia in una prospettiva nuova, una prospettiva di amore, di accoglienza, ma anche di discernimento in molte situazioni. E anche alla luce del periodo che stiamo vivendo, quanto mai la famiglia diventa il fulcro, il centro non solo della vita cristiana, ma anche della vita quotidiana, di scoprire all'interno della famiglia la gioia e i valori cristiani e soprattutto il modo di affrontare le difficoltà di tutti i giorni nell'ambito della famiglia.